Ciao a tutti ragazzi, sono Giordano Antano e sono un ex studente del mitico liceo scientifico Guglielmo Marconi. Vi vorrei consigliare la nostra scuola perché offre un piano di studi veramente ricco che permetterà ai vostri interessi, alle vostre passioni e al vostro talento di poter emergere. Grazie al liceo scientifico penso che potrete affrontare qualsiasi percorso universitario voi vogliate intraprendere e soprattutto vi permette di porre i primi tasselli di quello che sarà il vostro grande futuro. Scegliete lo scientifico se siete ambiziosi nella vita, se non vi accontentate, se volete ottenere sempre di più perché questa scuola permette di formare la vostra mente in maniera eccezionale sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista delle materie più diciamo letterarie. È eccezionale l'ambiente, molto curato, il personale ATA è molto disponibile così come gli addetti in segreteria ma anche i professori oltre ad essere veramente preparati a saper insegnare molto bene ti prendono un po' nel loro cuore e quindi ti trattano veramente come se fossi un loro figlio. In particolar modo io devo ringraziare la professoressa Luigina Tocchi che mi ha trasmesso la passione per la chimica, infatti oggigiorno sto studiando scienze agrarie all'università degli studi di Perugia e quindi sono stato in grado di abbinare la mia passione per la chimica con l'attività che ho di famiglia che è appunto un'attività, una cantina. Quindi scegliete lo scientifico se siete dei ragazzi ambiziosi e se volete avere un grande futuro perché ricordate per realizzare un grattacielo dovete prima porre delle ottime fondamenta. Ciao a tutti!